Vi avevo detto circa un mese fa che dovevamo tenere duro ancora un mesetto, direi che la situazione rispetto ad allora è radicalmente cambiata, il virus è in ritirata. Adesso dipende da noi, è necessario mantenere ancora tutte le precauzioni possibili perché non ritorni una cosiddetta seconda ondata paventata da più parti. L'indicazione che vi posso dare è quella del distanziamento sociale e dell'uso della mascherina sempre e soprattutto nei luoghi chiusi. Per cui mi raccomando, non vi voglio vedere in centri commerciali e supermercati, ma se è possibile state fuori all'aria aperta, distanti gli uni dagli altri. Non ho altre cose da dirvi, sono profondamente addolorato per tutte le persone che non ce l'hanno fatta, è stato un colpo duro sia per i familiari ma soprattutto per il personale sanitario perché effettivamente vedere i nostri amici, i nostri pazienti soli che non ce l'hanno fatta ci ha dato un grande dispiacere.